Vedo il mio signore il titolo della rievocazione storica degli ultimi momenti di vita di Sant'Antonio di Padova che sarà rappresentato questa sera alle 20 nel piazzale antistante la chiesa di San Pasquale dove apparve nel rione dei quartieri settecenteschi in occasione dei festeggiamenti antoniani dell'anno. Numerosi raffiguranti per il resital del gruppo parrocchiale di Sant'Alfonso dei Liguori che ripercorrerà i momenti più salienti della vita del Santo da Padova sino a giungere alla sua morte. Il giovane Salvatore De Gelidi rappresenterà Sant'Antonio, Amato Petroni interpreterà il ruolo di Fra Vinotto nel cast ancora ci sarà Giuseppe Tucci, Luciano De Gelidi, Antonio Blasotta, Romolo De Magistris e tanti altri raffiguranti. L'evento è arricchito dalla presenza degli sbandieratori e musicisti della città di Lucera. La sceneggiatura è affidata da Anna Laura D'Ecclesia e soggetta da Antonio Altieri sotto la regia di Nicola D'Addato. La diffusione della devozione culto del Santo dei Miracoli è tra le tante priorità della Pia Unione Gioventu Antoniana che ha organizzato e voluto fortemente questo resital regalando alla città una serata di conoscenza del Santo da Padova.